Colico Merita Di Più è l'originale nome che si è dato a un gruppo di abitanti del paese presente su Facebook. Un gruppo che già conta circa 1300 iscritti e che secondo gli amministratori è in continua crescita. Prima di tutto, perché il nome Colico Merita Di Più? Una sera di tre anni fa, che girovagavo su internet, ho ritenuto necessario inventare questo gruppo che parlasse di colico, delle problematiche di colico. Il nostro è un gruppo apartitico ed è un gruppo che ha delle prerogative. La prima è che dà spazio a tutti, tutti possono parlare. Gli argomenti che si discutono sono argomenti che riguardano sempre il migliorare colico. Ci confrontiamo principalmente con tutti gli iscritti, con gli abitanti di colico, con i turisti che arrivano e anche, anzi maggiormente, con le amministrazioni comunali. L'abbiamo fatto con la precedente amministrazione comunale, con la quale abbiamo avuto un bel rapporto e appunto si cercava di migliorare quel poco che si poteva migliorare in colico. Anche con questo attuale abbiamo già avuto un incontro con la sindaca e il vice sindaco e in questo incontro abbiamo fatto presente alcune istanze che erano emerse da parte dei cittadini. Il confronto è stato quindi abbastanza positivo. Che tipo di istanze? Le istanze dei cittadini quelle più sentite sono la Casa della Salute, perché è veramente un problema molto sentito. Sono la Caserma dei Carabinieri, che anche questa inizialmente tutti speravamo che ci fosse e poi invece sembra che sia stato un po' abbandonato come progetto. La sistemazione delle ex cariboni, anche questa addirittura, si era fatto l'anno scorso, due anni fa, una petizione per richiedere all'amministrazione comunale di allora di cercare di avere un rapporto con la proprietà. Questo è molto sentito dei cittadini e sono le istanze che proprio interessano tutti.